Ragazzi, stiamo con Rossella Feltri, sta quasi per esibirsi perché io non faccio il cantante, come dico sempre sui video di YouTube. Rossella Feltri, un saluto a tutti gli amici di Facebook, YouTube, Twitter, Speriamo che siete sempre in tanti, seguitelo sempre perché è un grande conduttore. No, grande no, adesso mi fa emozionare, è conduttore sì, però grande no, piccolino, diciamo piccolino. Questo flash mi accelga. Che bello, facciamo un saluto a Mario Trani, un bacio, colui che incepa ogni tanto, un bacio a Mario Trani e ballerini di Rossella. A Roberta, a Giuseppe, a Cittania e a Sassana. E a lui, il grande, il grande, il grande, il grande, il grande, il grande, il grande.